Tanti amuri a te, vai! Tanti amuri, classe 45, tanti amuri a te! E lasciamo anche tanti auguri a Luigia, la mamma di mano perché oggi è compriano! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Luigia, e tanti auguri a te, tanti auguri a te, e tanti auguri a Luigia, e tanti auguri a te! E la torta, fermé! E la torta, fermé! Ciao! 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 Grazie per la visione!